Cosa stai preparando? Allora, sto facendo un fiore di zucca in tempura con una farcitura alla mediterranea che vuol dire all'interno mettiamo ricotta, cappero, acciuga, oliva taggiasca e pomodoro secco invece all'esterno andremo a mettere la parte esterna della zucchina lavorata con menta e basilico poi la parte centrale della zucchina lavorata con cipollotto e nero di seppia e poi andremo a mettere un po' di salsina di pomodorino confit un po' di stracciatella e finiamo con il nostro fiore di zucca fatto in tempura un po' di sale e voilà Questo piatto è stato preparato da Medi e Lomari Medi a Casa Pautasso, San Secondo di Pinerolo